Allora direttore, dopo il report di Facile.it che ci ha messo in evidenza l'indebitamento delle famiglie crescente per affrontare le spese sanitarie a causa anche delle liste d'attesa molto lunghe, scopriamo un altro dato sconcertante, l'aumento delle spese che sostengono le famiglie per potersi curare, ma l'altro dato emblematico, 4,7%, praticamente quasi 100.000 famiglie in campagna, per motivi economici hanno dovuto rinunciare a curarsi, non avevano i soldi neanche per fare una semplice radiografia. Ma io credo che il migliore commento a questa situazione di disastro devastante della sanità italiana, attenzione, poi nel sud che peggiorino le cose, è noto e notorio anche per le ragioni che conosciamo, che sono ragioni di carattere soprattutto economico. Il miglior commento l'ha fatto una persona che per mestiere e per cervello, per chi avrà un cervello davvero molto grande, ha preso il Nobel per la fisica ed è lo scienziato Parisi, Giorgio Parisi, che cosa ha detto in buona sostanza? Che poi è la risposta a tutte le cose che stiamo trattando di sanità ormai da mesi, ha detto che il nostro servizio sanitario pubblico è un fiore all'occhiello come idea e come è stato fino a un certo tempo, però a questo punto è molto invecchiato, è vecchio di almeno 40 anni e andrebbe rivisto, rivisto alle fondamenta. Ha portato qualche esempio Parisi, ha portato l'esempio dei pronto soccorso dove c'è carenza di personale, dove i medici che vanno in pensione non vengono sostituiti, quindi pronto soccorso intasati, l'emergenza in entrata negli ospedali decisamente drammatica. Ha parlato delle liste di attesa, liste di attesa di mesi e mesi anche per esami che nel frattempo, mentre tu aspetti la chiamata per l'esame, puoi crepare ed è accaduto tantissime volte. Ha parlato dei medici che vengono pagati profumatamente all'estero, specialmente in Germania, in Svezia e in Alte, per cui i giovani si sentono più ingendivati a scapparsene, per non parlare degli specialisti, eccetera. E ha denunciato soprattutto il rischio che se continua quest'andazzo, se non si mette mano, anziché parlare di autonomia differenziata che specialmente per la sanità ti fa entrare direttamente nella sala mortuaria del sistema americano, ha parlato appunto del sistema americano che lo sappiamo, lo conosciamo tutti, lì se hai soldi e paghi, campi. Se non hai soldi perché sei un povero Cristo come la stragrande maggioranza dei cittadini del mondo, a quel punto crepi. Allora, il problema è, qui ci vogliono tanti soldi per la sanità, il problema non è l'autonomia differenziata, accantonatela, mettetela da parte, anche perché per realizzare quei leppe ci vorrebbero 100 miliardi circa, con molto meno, mettendo mano ad una riforma del nostro servizio sanitario nazionale, facciamo due cose utili, evitiamo il sistema americano perché il nord Italia, continuiamo a negarcelo, ma nel nord Italia si è già abbondantemente verso il sistema americano perché lì la sanità funziona un po' meglio che nel sud, perché è soprattutto sanità privata, non quella convenzionata, attenzione, perché anche quella è intasata, è la sanità privata dove chi può paga e ha gli esami subito, le visite subito, i ricoveri subito e questo è il punto. Quindi ci vogliono tanti soldi, tanti soldi perché o è questo oppure diventiamo mano a mano, piano a piano, diventiamo un servizio sanitario americano che è quello che Parisi ha ben descritto. Ora, se uno scienziato della statura, non soltanto intellettiva, ma anche morale di Parisi, continua a parlare a vuoto, è una voce nel deserto perché purtroppo questa politica è talmente distratta da non capire nemmeno le cose semplici più, siamo rovinati, siamo davvero rovinati, la sveglia dovrebbe essere questa, se parliamo di Europa, perché ci sono le elezioni europee, proviamo a parlare anche di sanità e di ciò che ha detto uno scienziato intelligente, uno che prima di parlare usa il cervello, qual è appunto Giorgio Parisi.